Quanto è cambiato il ciclismo dai tempi di Gianni Bugno ad oggi? Sono passati i 30 anni, quindi un po' è cambiato, soprattutto sui mezzi, per quanto riguarda Stadeco e quant'altro no. I corridori sono molto competitivi, quindi è cambiato un po'. La polemica del giorno riguarda i famosi caschetti, quelli usati da Wingard nella cronometro della prima tappa della Tirreno Ariatico. Molti dicono che non sono a norma, che bisogna soprattutto tutelare la salute dei ciclisti. Lei cosa ne pensa? Sono a norma, perché lì li hanno registrati l'UCA e l'UCA deve decidere se questi caschi sono a norma o meno. Se ne hanno utilizzati perché potevano utilizzarli. Per quanto riguarda la salute del corridore penso che non sia un problema. Tirreno Ariatico, Wingard è il favorito? Per me sì, sicuramente lui è il favorito. Anche se poi ci sono anche alternative a una possibile vittoria. Sicuramente c'è Iuso che è in ottima condizione, però Vindega è già partito alla grande quest'anno, la prima cosa che ha fatto. Penso che la condizione per poter vincere questa direzione di Ariatico ce l'abbia. E Pogaciar invece come lo vede in questa stagione? Pogaciar è vincente, ha vinto la Stade Bianca e sicuramente sarà competitivo la Sanremo. Tra i due in questo momento chi sta meglio? Tra i due stanno bene, si sono ancora scontrati, si scontreranno al Tour. La Tirreno Ariatico è un test probante o subito dopo ci sarà la Sanremo? Diciamo che la ciclismo di oggi la Tirreno Ariatico sicuramente sarà indicativa, però i corridori hanno dimostrato Pogaciar che possono anche non correre e arrivare a essere competitivi. Il Tour de France cosa ha ancora di più rispetto al Giro d'Italia? Lo sanno vendere bene. Tradizione e marketing quindi? Sicuramente sì, sono migliori rispetto a noi. Quanto è rimasto del ciclista nel pilota di elicotteri? Sono due cose diverse, l'unica cosa che gli accomuna è la passione. Campione del mondo, come ci si sente quando si vince una manifestazione di quel tipo? È una cosa come tutte le altre, cambia solo il risultato. Più del Giro d'Italia o meno? Sono uguali per me. Che significa oggi la presenza di Gianni Bugno qui al BIM? Beh, è una presenza importante perché come consorzio l'abbiamo voluta, sia perché lui è un campione del ciclismo, ma anche perché lui ci rappresenta quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Noi siamo puntando molto alle piste ciclopedonali, ai sentieri, allo sport naturalistico, per cui non posso che ringraziare per la presenza Gianni e colgo l'occasione per riportarlo anche nei prossimi anni, anche qui, anche perché stiamo sviluppando con la Tirreno Adriatico un contratto anche pluriennale. Per noi oggi e domani saranno delle giornate importanti per i nostri territori, non solo i tre comuni che fanno da partenza e arrivo delle tappe, ma anche l'intero territorio che viene attraversato dalla Tirreno Adriatico. L'abbiamo voluta, anche perché Tirreno Adriatico, RCS, vuol dire anche marketing territoriale, internazionale, per cui non possiamo abbassarci solo a livello locale, la pubblicità deve essere anche oltre e noi stiamo dando il meglio per farlo. Lo sport che maggiormente valorizza un territorio è il ciclismo, questo è fuori di dubbio, che è anche una delle finalità del BIM, quella della valorizzazione del territorio. Cosa si può fare di più, oltre al Giro d'Italia e a Tirreno Adriatico? Sicuramente attraverso gli organi di stampa possiamo pubblicizzare i nostri territori e gli organi di stampa devono essere anche loro fautori di una pubblicità positiva per la provincia di Teramo, ma anche noi stiamo organizzando presentazioni nelle mostre internazionali, per cui anche qui il Consorzio BIM è dalla parte dei comuni che vogliono rappresentarsi e rappresentare. L'ultimo abbiamo fatto alla BIT di Milano, per cui questi sono passi giganti per noi che possono dare positività a tutto il nostro territorio. Buigno, lei l'Abruzzo lo conosceva, sì? Sì, l'Abruzzo lo conosco, lo conosco da una vita, è una bella regione, una regione che sicuramente c'è tutto, c'è mare, c'è montagna, e sicuramente con queste manifestazioni sportive si porta l'Abruzzo in casa della gente normale. Si diceva prima con il Presidente il ciclismo valorizza un territorio, ecco, lei da corridore come li viveva, anche se chi corre, chi è impegnato in gara, vede poco? Quando sei in gara vedi l'altimetria, non è che guardi il paesaggio, però sicuramente porti il paesaggio nelle case della gente. Però quando si arriva sul Gran Sasso magari si guarda la montagna un po'? Sicuramente si guarda, è un bel paesaggio, lo vedo anche oggi, mi ricordo quando correvo qua, quindi sicuramente è una bella immagine. Quanto significa la valorizzazione di un territorio attraverso le gare sportive? Ormai è dimostrato che gli eventi sportivi sono un elemento importante per la valorizzazione del territorio, quindi noi abbiamo investito sulla terrena adriatica e sul Giro d'Italia. A proposito del Giro d'Italia, dopo la polemica dell'illuminazione del Gran Sasso è arrivata quella dei massi caduti sulla strada per Prati di Tivo, come se ne esce? Beh, noi dobbiamo anche pregare Dio che non ci succeda altro, perché la tappa del Giro d'Italia la vogliamo a tutti i costi. E' partita male, eh? Partita male, ma noi siamo fiduciosi di farla e sarà un grande successo per la promozione dei preditivi e del territorio della provincia di Teramo. Verrà illuminato il Gran Sasso? Sono fiducioso.